Alle porte la tredicesima di andata in Serie D in cui le quattro molisane si divideranno, due in casa, Boiano e Agnone contro Fano e Celano rispettivamente, due fuori, l'Isernia a Iesi, il Termoli a Pesaro. Dunque tre avversarie su quattro delle molisane sono marchigiane. La squadra di Giacomarro ha intenzione di riprendere il cammino vincente, interrotto dal pareggio contro la Curi. I giallorossi formato trasferta sono una squadra abbastanza soddisfacente. La metà dei punti, 12 su 24, è giunta da gare esterne, non male come ruolino di marcia. La maxisqualifica di Mandorino ha allertato la dirigenza adriatica che ricorrerà avverso tale decisione ritenuta spropositata, grazie all'opera di un legale napoletano. In dubbio il centrocampista troiano, per una botta alla gamba destra, potrebbe sedere in panchina a Pesaro. Mancherà pure Falco, anche gli per squalifica al posto di Mandorino potrebbe essere avanzato la rosa. L'Agnone non ha altro risultato che la vittoria contro il Celano Alcivitelle, formazione dai numeri scarni, nove golfatti, ma anche sette subiti. Una difesa quasi pari a quella della capolista Ancona che di reti ne ha prese cinque. In infermeria si trova l'attaccante Famiano che deve lottare con un fastidio al retto femorale. Lo stesso portiere Biasella non scoppia di salute per un problema al flessore. In caso di forfè spazio al secondo, Veccio, Urbano che ha scontato i tre turni di squalifica, potrebbe optare per una formazione analoga a quella che ha impattato contro la Fermana. Un modulo classico 4-4-2 in cui il duo d'attacco si asfiderà agli spunti di Morante e Keita per provare a scardinare una difesa rocciosa stando al tabellino. Brutto cliente anche per l'Isernia che viaggia verso le Marche, esattamente a Iesi. I marchigiani non se la sentono di nascondere ambizioni play-off vista la scarsa distanza dal quinto posto. Appena due punti, Scagliarini non potrà contare sullo squalificato panico, assenza piuttosto pesante. Il tecnico Pentro starebbe meditando a una gara di rimessa nella quale affidarsi al contropiede. Potrebbe essere un pensiero giusto in vista di una partita complessa. A Boiano la situazione è in costante evoluzione. Di Conza ha appena annunciato l'ingaggio del direttore sportivo annunziata, l'allenatore Lamanna, ma anche il possibile ingresso di imprenditori irpini in società. Addirittura si paventa la possibilità che un soggetto legato al mondo irpino possa rilevare la presidenza del Boiano, ma è un'indiscrezione questa tutta da verificare. Le novità dell'organigramma societario potrebbero essere accompagnate anche dall'ingaggio di nuovi giocatori sponsorizzati dal nuovo DS. Non si esclude altresì che nuovi tesseramenti possano essere fatti prima di domenica, cioè prima della gara interna contro il Fano.